Musica Muore in pronto soccorso a 29 anni, era malata di covid, non vaccinata. La donna di Viareggio è deceduta all'ospedale Versilia per l'ASL. I medici possono sospettare complicanze legate al virus. Parcheggio e cimitero come una discarica a San Cassiano Avico. Gli abitanti denunciano una situazione divenuta insostenibile. Due secoli fa il vaccino era obbligatorio. In epoca napoleonica Elisa fece di Lucca il primo Stato ad imporre la somministrazione obbligatoria e gratuita contro il vaiolo. E non mancarono le proteste. Idea Pieroni e Matteo Oliveria, i mondiali junior di Nairobi, scattano tra poche ore in cari alle gare del campionato del mondo giovanile di atletica leggera, dove i due portacolori della Virtus Lucca sono chiamati a rappresentare l'Italia. Ben trovati con una nuova edizione del nostro telegiornale. Dunque, in primo piano, il dramma che si è consumato nel pomeriggio di Ferragosto. Una giovane donna di 29 anni è morta al pronto soccorso del Versilia. Una donna di 29 anni di Torre del Lago, positiva al Covid-19, è morta nel pomeriggio di Ferragosto, al pronto soccorso dell'ospedale Versilia, dove era arrivata in arresto cardiaco. I sanitari ritengono che il decesso della ragazza, che non era vaccinata, sia dovuto ad una complicanza acuta cardiorespiratoria legata al coronavirus. Era in quarantena in casa, con il marito, anche lui positivo, che l'ha accompagnata in ospedale intorno alle 14. Secondo quanto riferito dalla ASL in una nota, il personale dell'ospedale ha subito constatato che era in arresto cardiorespiratorio. Sottoposto a rianimazione cardiopolmonare nell'area Covid del pronto soccorso, non ha mai ripreso coscienza, né attività cardiaca e respiratoria. Il sospetto dei medici, come afferma l'azienda sanitaria, è che la morte sia dovuta ad una complicanza del SARS-CoV-2, che si era manifestata negli ultimi 5 giorni con febbre e disturbi respiratori minori. Non è noto al momento se la donna soffrisse di altre patologie. L'esito degli accertamenti di laboratorio in corso e di quelli autoptici richiesti dai medici dell'ospedale permetteranno di chiarire le cause della morte, si legge nella nota della ASL. La notizia ha generato dolore e sconforto a Torre del Lago, dove la donna gestiva una pizzeria insieme al marito. Facciamo il punto sui contagi da coronavirus. Il virus in Toscana nelle ultime 24 ore sono 527 le nuove positività, il tasso di positività in aumento al 9%, sono 334 i pazienti ricoverati in aumento di 14 unità, di cui 37 in terapia intensiva, 4 in più rispetto a ieri. Si registrano tre decesse in Toscana, si tratta di due uomini e una donna, l'età media di 76,3 anni. In provincia di Lucca le nuove positività sono 54 nelle ultime 24 ore. Anche sabato sera, durante i servizi di controllo Interforce, a Lucca sono state fatte due sanzioni per inosservanza della normativa sul Green Pass. All'interno di un locale in via San Paolino, infatti gli operatori hanno accertato la presenza di un cliente privo di certificazione verde che è stato multato insieme al gestore del locale. Adesso andiamo sul lungomare di Lido di Camaiore per raccontarvi di un episodio di violenza che vede protagonista un ragazzo di 18 anni che ha messo a segno una rapina in un locale, è coadiuvato da alcuni suoi coetanei e poi ha appestato una guardia giurata. Ci racconta tutto Federico Conti. Ha rapinato il gestore di un bar per farsi consegnare altro alcol, per poi aggredire con pugni e colpi al volto la guardia giurata di turno, finita al pronto soccorso con un referto di 30 giorni. È stato un ragazzo di appena 18 anni, insieme ad altri coetanei, a scatenare l'ennesima notte da Far West, al base alcolica, sul lungomare di Lido di Camaiore. I fatti sono accaduti all'alba, intorno al chiosco bar della spiaggia libera di Piazza Lemmetti, luogo di ritrovo di moltissimi giovani e soprattutto adolescenti. Il ragazzo, arrestato per rapina aggravata e lesioni in concorso, con altri amici ancora da identificare, ha forzato la porta sul retro del chiosco, facendo razzia di alcolici per circa 1000 euro e rubando contanti per 300 euro. All'arrivo del titolare lo ha aggredito, minacciandolo con una bottiglia rotta per farsi consegnare altro alcol. Il tempo di assecondarlo ed ecco arrivare una guardia giurata sulla Cinquantina, aggredito con violenza, preso a pugni e colpi con un contundente, lasciato a terra sanguinante, con fratture al volto e senza un dente. Arrivata la polizia, il 18enne, di origine albanesi ma residente a Pistoia, è stato portato in carcere a Lucca. Le indagini proseguono per identificare i giovani complici. Nessun commento dai titolari del chiosco, che oggi hanno affidato ad un cartello tutta l'amarezza e la rabbia per quanto accaduto, che è solo l'ultimo di una serie di episodi. Sabato mattina, un quindicenne è stato ritrovato in coma etilico su quella spiaggia, al vicino bagno a betone, abbandonato dagli amici. Una situazione che esaspera non solo i residenti, ma anche gli stessi esercenti della passeggiata, nonostante l'idro di Camaiore sia in vigore per tutta l'estate un'ordinanza che vieta la vendita di alcolici da sporto nei fini settimana. Come al solito, zona calda, la gente beve e porta la roba da casa, bottiglie, non solo bere, c'è di tutto a giro. Non presidiano le forze dell'ordine, se le chiami quando arrivano sono già tardi, sono un casinato anche loro, sono un pochi. Richiediamo l'esercito il sabato sera, se no ci si fa. Ragazzettini che non sanno bere, non sanno divertirsi. Voltiamo decisamente pagina e torniamo a parlare dell'attentato in cava a Gorfigliano, perché è arrivato un commento degli esponenti della Lega, Elisa Montemanni, capogruppo in consiglio regionale, Riccardo Cavirani, commissario provinciale del Carroccio di Lucca, in merito al rogo doloso, che ha distrutto quattro mezzi pesanti utilizzati per le attività estrattive all'interno della cava. È un atto ignobile, lo definiscono così, siamo vicini agli imprenditori di Minucciano, vittime di un atto delinquenziale perpetrato all'interno di una cave che ha comportato un significativo danno economico. Adesso andiamo a Lucca, a San Cassiano Avico. In questo servizio vedrete le immagini di una discarica vergognosa a cielo aperto. Gli abitanti denunciano una situazione che è divenuta insostenibile. Sentiamo Giulio Del Fiorentino. Una discarica a cielo aperto in piano centro. Il piazzale del campo di calcio come un centro di raccolta rifiuti. Quello che vedete inquadrato è il parcheggio degli impianti sportivi di San Cassiano Avico, nel comune di Lucca. Un telespettatore ci ha segnalato la situazione che va avanti ormai da settimane. Soprattutto di notte, ignoti, forti dell'assenza di controlli, scaricano ogni genere di rifiuto e in poco tempo la discarica abusiva ha assunto dimensioni imbarazzanti. E nel paese l'allarme per il decoro urbano non riguarda soltanto il campo sportivo. A meno di un chilometro di distanza, sempre a San Cassiano Avico, il cimitero vanta uno scempio fatto di abiti usati. I contenitori gialli della Caritas, infatti, sono diventati la scusa per gettare a terra i vestiti che adesso sono sparpagliati ovunque. Con buona pace degli abitanti della frazione lucchese che da tempo chiedono un intervento risolutore. A Lucca, due secoli fa, il vaccino era obbligatorio su volontà di Elisa Baciocchi. Anche in quel periodo non mancarono le polemiche. Campagna di vaccinazione obbligatoria. DPCM, proteste contro il vaccino, accuse di inganno nei confronti delle autorità sanitarie, ma anche multe e carcere per Inovax. Così stabilirono i decreti di 200 anni fa, quando un'epidemia di vaiolo colpì tutta Europa e anche Lucca, ma anche quando Elisa Bonaparte Baciocchi portò da Parigi medici specializzati e il primo vaccino, scoperto da pochi anni, istituendo una rete per garantirlo gratuitamente a tutta la popolazione e vaccinando per prima la figlia Napoleona Elisa, di appena 14 giorni. Fu quindi proprio il Principato di Lucca, il primo Stato, ad istituire l'obbligo vaccinale gratuito per decreto, obbligando tutti i medici alla somministrazione e tutta la popolazione a vaccinarsi, pena la multa o l'arresto in caso di impossibilità a pagare. Nel decreto emanato il 25 dicembre 1806, si definisce la scoperta del vaccino un dono che la provvidenza ha fatto all'umanità. A ricordare l'epidemia di Vaiolo del 1806 è l'Associazione Napoleone ed Elisa, da Parigi alla Toscana, che da anni si dedica allo studio e alla divulgazione della conoscenza delle tracce dei Napoleoni di Intoscana, e in particolare alla figura di Elisa Bonaparte Baciocchi, sorella dell'imperatore e prima donna al governo di Lucca dopo quattro secoli di Repubblica oligarchica. L'epidemia di Vaiolo sono state frequenti con le loro migliaia di morti, fino a tutto il XVIII secolo, spiega Roberta Martinelli, storica e presidente dell'Associazione. Anche 200 anni fa non mancarono le polemiche. Nonostante, grazie ad un lungo percorso di vaccinazione su scala mondiale, oggi il Vaiolo sia stato debellato. L'Associazione, in occasione dell'anniversario della nascita di Napoleone, il 15 agosto, ricorda i prossimi appuntamenti culturali. Il 23, 24 e 25 agosto al Real Collegio alle 21.30, con le serate napoleoniche, e martedì 31 con lo spettacolo teatrale Erano Tre Sorelle. Ci spostiamo a Pietrasanta dopo una notte difficilissima. Adesso l'incendio a Val di Castello è sotto controllo e i residenti sono pronti per rientrare nelle loro abitazioni. Dopo 24 ore di paura e forte preoccupazione, è pienamente sotto controllo l'incendio divampato nella tarda mattinata di Ferragosto sulle colline di Val di Castello, in località Selvatondo. Le 10 persone evacuate nella notte di domenica in via precauzionale, fra cui i due anziani e bambini, sono pronti a rientro nelle loro abitazioni, ormai messe in sicurezza. Il fuoco era arrivato a circa 70 metri dalle costruzioni, minacciando di avanzare. La situazione di pericolo è rientrata anche per le altre 10 persone residenti sul fronte capezzano monte della collina, che a mattinata erano state messe in preallerta per un'eventuale evacuazione. Grazie anche all'assenza quasi totale di vento, i vigili del fuoco, insieme alle squadre dell'antincendio boschivo della regione toscana e ai volontari, sono riusciti a circoscrivere le fiamme, isolando le zone incendiate della collina, dove sorgevano pini e olivi, e infine a domare il fuoco. Sul posto, oltre alla protezione civile comunale, per tutta la notte, a seguire le volvere della situazione, l'assessore all'ambiente Tatiana Gleori. Alle due e mezzo questa notte sono state evacuate più o meno 10 persone. Io sinceramente mi sento di ringraziarli, ringraziarli di cuore perché si sono comportati in maniera eccellente. Sono stati molto comprensivi e oltretutto una gran parte di loro sono stati con noi tutta la notte. Quindi hanno potuto valutare in prima persona il valore veramente della protezione civile, dei vigili del fuoco che stanno facendo un lavoro enorme. L'incendio è probabilmente di natura dolosa e questo è un fatto molto grave, ha affermato il sindaco di Pietrasanta Alberto Giovannetti. Insomma, dietro alla distruzione c'è la mano dell'uomo ancora una volta, come quasi certamente c'era l'origine del vasto incendio di sabato a Valpromaro, sulle colline di Camaiore. Tra gli evacuati per un giorno di Val di Castello, anche l'ambasciatore del Marocco, Julien Bruni. Fino a mezzanotto siamo stati qua, i vigili del fuoco hanno lavorato tantissimo, l'administrazione con il sindaco e gli assessori sono stati presenti più di 24 ore adesso senza interruzione. Il punto è che è partito quattro volte il fuoco in quattro giorni, dunque sembra che c'è un problema. Dobbiamo dare fiducia alle autorità competenti per fare il lavoro e trovare dove il problema. La politica Coreglia Antelminelli ha un nuovo presidente del Consiglio Comunale, Ivo Carrari, fino alla scorsa settimana capogruppo di maggioranza, ad essere stato eletto dopo la votazione unanime di mercoledì scorso, presidente del Consiglio, ruolo che ricoprirà mantenendo anche le deleghe al bilancio e alla progettazione europea. In giunta entra il capogruppo dell'opposizione ed ex candidato sindaco Giorgio Daniele, che ricoprirà il ruolo appunto di vice sindaco al posto di Sabrina Santi. Rimaniamo in zona, nelle celebrazioni di San Rocco si è svolto il tradizionale bacio delle croci. Luca Galeotti Per il secondo anno consecutivo il Comitato per i festeggiamenti di San Rocco in Turrite è riuscito a mantenere viva un'antichissima tradizione legata alla festa religiosa dedicata appunto a San Rocco, messa all'aperto nel campo sportivo, processione religiosa con utilizzo della mascherina e come sempre la cosiddetta gazzarra che fa da colonna sonora al corteo. Nonostante il delicato momento che stiamo vivendo, anche quest'anno tanta gente ha partecipato a questo rito religioso. Dopo la Santa Messa, celebrata da padre Francesco Petrillo e ben accompagnata dalla corale, si è formato il corteo che va ad incontrare la delegazione religiosa proveniente da Pescaglia. L'incontro è molto particolare in quanto si svolge nel luogo in cui, secondo la tradizione, morì l'ultimo ammalato di peste, il morbo cessò e non si diffuse nella ballata. San Rocco protesse qui insomma la comunità dalla pestilenza, in quel punto le due croci parrocchiali si baciano. Con questo momento prende poi il via la processione per il tradizionale percorso intorno alla chiesa di San Rocco in Turrite. Dopo pochi minuti il primo cittadino di Pescaglia, Andrea Bonfanti, ha dato fuoco alla gazzada che grazie ad alcune migliaia di mortaretti ha fatto da cornice acustica la processione che è terminata davanti alla chiesa. La festa di San Rocco, come ogni anno, ha un significato estremamente importante per il nostro comune e soprattutto per questa vallata. È un incontro di due comunità, un incontro di persone che nonostante la situazione legata alla pandemia, ovviamente rispettando quelle che sono le norme anti-Covid, ci tiene comunque a festeggiare, a fare la sua festa e a ricordare, tra l'altro, un episodio legato a una pandemia avvenuta molti anni fa. Quindi la peste che qui si è fermata e ha risparmiato questa comunità. E quindi di nuovo, come dire, una richiesta da parte di queste comunità di provare a fermare anche questa pandemia. Dopo le note del gruppo folclorico La Castellana di Nozzano Castello, è stato il vicario generale dell'Arcidioce Sidrucca, Monsignor Michelangelo Giannotti, a benedire tutti i presenti e soprattutto a chiedere la protezione di San Rocco affinché questa pandemia abbia fine il prima possibile. Cambiamo decisamente argomento. In Toscana inizia il rialzo delle assicurazioni, ma i premi sono inferiori ai livelli pre-Covid. Di nuovo Giulio del Fiorentino. In Toscana inizia il rialzo dei costi delle assicurazioni delle auto, anche se i premi sono inferiori ai livelli pre-Covid. È un'immagine in chiaro-oscuro, quella emersa dall'osservatorio di Facile.it. Dopo che a maggio i premi hanno raggiunto il minimo, a luglio hanno fatto registrare una risalita. Oggi, per assicurare un autoveicolo in Toscana, occorrono in media 474 euro, lo 0,4% in più se confrontato con giugno. La buona notizia, però, è che i premi risultano ancora nettamente inferiori rispetto a un anno fa. Il dato emerge dall'analisi di un campione di oltre 620.000 preventivi e relative quotazioni raccolti nel corso dell'ultimo anno. La provincia toscana, che ha visto scendere in misura maggiore il prezzo della Reciauto, è stata quella di Siena, dove lo scorso mese il premio medio era pari a 356 euro, il più basso registrato nella regione in termini di valore assoluto, in calo del 18% in 12 mesi. Seguono nella gradatoria regionale la provincia di Pistoia, con il meno 18 su base anno, e quella di Massacarrara, diminuzione in linea con la media regionale per le province di Firenze e Prato. Cali inferiori invece rispetto alla media per le province di Livorno, Pisa e Lucca, che fa segnare un calo del 12,48% con un premio medio di 467 euro. Lo stesso vale per Arezzo. Confrontando il costo medio della Reciauto a luglio 2021 con quello di luglio 2020, emerge un dato interessante. Il calo dei prezzi è stato registrato, seppur in misura differente, in tutta la Toscana, con una diminuzione a doppia cifra in ogni area, ad eccezione di Grosseto. Ci fermiamo qui per questa prima parte, adesso breve break pubblicitario, e poi la nostra pagina sportiva. Tra poco.